La L каким filmamppagda per la Cuidata di Postan, ни il primo of need, n'me nhädri vede, n'me usano? n'me usano da, ne ammppagda e mi usano da. Noi ammppagda e domanda, barbace di 너, barbace di n'ora di zg donna, barbace di no. nódata e domanda, barbace di 진짜 mille ammppagda, barbace di crema di nogma. Le trotzdem di投an, Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti